L'associazione di volontariato Colomba Soccorso aprirà le porte della propria sede ai campi estivi che prenderanno il via nella Mediateca da Danalucana Capoluogo in piazza Vittorio Emanuele lunedì 13 giugno. I bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare alle tante attività laboratoriali organizzate dai volontari dell'associazione da lunedì al venerdì dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e 30 per tutta l'estate. È possibile iscriversi fino a giovedì 9 giugno. Chiuse le scuole quindi i genitori potranno affidare i propri bambini alla cura e alla professionalità dei giovani volontari della Colomba Soccorso impegnati ad offrire servizi educativi che spaziano dalla creatività come laboratorio artistico sull'arte del decoupage in programma dal 13 al 24 giugno e come laboratorio di musica ballando dal 18 luglio al 5 agosto fino ai laboratori di animazione giochi motori. Continua quindi l'attività dell'associazione Colomba Soccorso sempre impegnata nell'offrire alla cittadinanza servizi di utilità pubblica. In quest'ottica il prossimo obiettivo dell'associazione è l'acquisto della macchina per l'elettrocardiogramma portatile, il cosiddetto ECG, uno strumento fondamentale per monitorare la salute del paziente durante il pronto soccorso che arricchirebbe la dotazione strumentale dei volontari di Atena Lucana da anni impegnati nell'offrire il primo soccorso ai cittadini del Vallo di Diano. Grazie Grazie Grazie